Signori siamo pronti a iniziare la nostra rubrica del lunedì con un Ivan Podcast Fiore sempre più fresco anche dal taglio lo si evince, un taglio estivo, ma io non mi perdo in chiacchiere e ve lo mostro signori il signor Ivan di Podcast Fiore, tanta 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 lana, prego regia andiamo sull'ospite Come stai Ivan? Che piacere di vederti Ma Gio, ma io sto benissimo, però non è che ti puoi presentare così a tradimento, tutto elegante, mi fai sfigurare Ah vabbè ma Ivan, ma insomma io, tra l'altro non so perché non si vede un cazzo No non lo vedete Ivan, o lo vedete, non lo vedete, non lo vedete E lo so, schermo nero sarà anche qui Schermo nero, niente, allora facciamo così, oggi lo vedete in schermo normale Perché abbiamo un problema con le camere evidentemente, va bene, lo guardate così In un modo bruttissimo, me ne rendo conto, però ora lo metterò a tutto schermo È brutto, lo so perché vedete anche la chat, vedete tutto, ma non so perché, non funziona più La cam per l'ospite, ora non dovrebbe essere nero adesso, lo dovreste vedere in un modo che non è bellissimo Però lo dovreste vedere, lo dovreste vedere diciamo dallo schermo normale di Streamlabs Va bene, non funziona un cazzo come al solito, ci fa piacere saperlo SevenWebTV, grazie per i venti fratello, andatelo a seguire SevenWebTV, vedo che si sta impegnando tanto anche lui Ora si vede, si vede male, lo vedete diciamo in un riquadro piccolo, non so se si può ingrandire ancora, non penso Anzi sì, così, lo vedete così, così è perfetto Potevamo fare direttamente così, così è bellissimo Allora Ivan ora ti vedono bene, ti vedono grosso, ti vedono, insomma la scena è tua, ti vedono bene, basta E come sapete Ivan viene qua e ci racconta qualcosa che io non so tra l'altro E quindi vi parlerà lui, ora solo prima di iniziare, visto che questa mattina ho scammato male la donazione di Iro Farei un po' di trombette in ritardo Iro, grazie, ha donato 10.000 rubli, che mi ha detto corrispondono a 13 euro Tanta roba, tanta roba e grazie ancora fratello Signori seguite Hiroshima34, questa sera il live su Twitch Ho visto che mi hai iscritto un messaggio privato Non temere perché fidati che non annoi, non annoi E lo dico a tutti, non annoi a Iro, è uno di quei canali così come quello di Ivan Podcast Fiore Che mi sento davvero di consigliarvi perché sono cose interessanti quelle di cui loro parlano Bene Ivan, ora io come al solito mi servirò del tuo lavoro, mi siedo, non faccio più nulla, prego Basta, sto zitto No ma non ti conviene sederti tanto oggi, allora intanto fammi salutare tutti e soprattutto Davide Cioè Association 1937 perché fa parte proprio del gruppo dei Moderafiori Ed è arrivato e sbarcato qua proprio oggi, quindi bentornato Davide Ciao Davide Si chiama in quella maniera perché lui fa parte dell'associazione del bunker Soratte Che si trova a Sant'Oresti a Roma Quindi se siete interessati andate a dare uno sguardo Se volete conoscere la storia incredibile di questo bunker laziale Allora, siccome Luca nelle ultime settimane, in questo periodo di festa, non ci siamo visti Ho pensato di fare questa cosa, di metterlo un attimo in pausa, stop, riflettere insieme su alcune cose Quindi sarà un momento per scambiarci dei pareri e confrontarci su alcune esperienze E dopodiché vi avviso anche che questo sarà l'ultimo mese in cui ci vedremo qua su Twitch Perché poi andrò in vacanza e allora contemporaneamente abbandonerò anche la piattaforma Andrò all'aria aperta e farò altre cose per tutto il periodo estivo Quindi altre tre puntate, oltre a quella di oggi E poi quindi dovremo salutarci momentaneamente per questa nostra rubrica Eh vabbè, ci sta, ci sta, la meritata vacanza o comunque insomma il periodo di fiesta Tra l'altro vacanza dopo questo periodo pasquale Io mi auguro che la maggior parte di voi abbia mangiato del buon cibo Abbia bevuto del buon vino E allora facciamo un attimo il punto della situazione Eh aggiungo solo una postilla perché giustamente ci auguriamo che abbiano mangiato del buon cibo Che abbiano bevuto del buon vino e che aggiungo io anche qualche volta eh Se si riesce anche una ficcatina eh Assolutamente È insomma è molto importante Ecco Ivan ricordiamolo perché va bene il cibo, va bene il vino però anche Mattino Eh vabbè scusami Ivan ora torno serio Ciao Barbara, good pomeriggio Tante volte si dice io non ho tempo di fare sport Non ho tempo di andare a camminare, di fare attività fisica eccetera eccetera Oggi cercheremo un attimo di concentrarci su quello che è il nostro tempo libero Ne abbiamo, non ne abbiamo, come lo utilizziamo eccetera Tutti noi sappiamo che l'attività fisica è fondamentale Per quel problema con il quale abbiamo cominciato la nostra rubrica Il problema del dell'obesità Dei chili in più che non dovremmo avere ma che abbiamo E tutte le malattie che sono correlate proprio all'obesità Bene, io vorrei sapere da voi Così è un modo anche per ragionare ciascuno su noi stessi Di scrivere nella chat, vi chiedo questa cosa Quanto ogni giorno dedicate all'attività fisica Voglio anche descrivere attività fisica per far capire che cosa intendo Non è semplicemente l'attività motoria Quindi andare a camminare e farsi una passeggiata Perché quando si parla di attività fisica La si può intendere in due maniere C'è quella moderata Cioè vuol dire che io mentre la faccio Non sono in grado di cantare ma riesco a parlare Per esempio quando si cammina in maniera veloce A passo veloce E poi c'è quella intensa Quando non riesco né a parlare e né a cantare Per esempio quando corriamo Non siamo in grado di cantare Quindi dobbiamo per forza fermarci Per poter anche cantare E anzi prima dobbiamo anche riprendere fiato L'attività fisica, quella moderata Quindi anche una camminata veloce Quanto dedichiamo noi al movimento al giorno? Siamo in grado di fare una stima Per esempio quanti minuti eccetera? Per esempio vedo Frad che dice io no La parola di Arrosticino non la leggo No 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 ma ti leggo io qua Allora Fede di Arunda NBA e anche Frad Ci hanno detto che loro dedicano all'attività fisica 45 minuti al giorno È un buon tempo Ivan? Ma senza giudicare Capito? Serve più che altro alla persona stessa Per riflettere su quanto tempo dedica Certo Allora poi vediamo se arrivano altri Ovviamente c'è anche un po' di ironia Chiedono se la mastur... Arro chiede se... Perché tra l'altro saluto Good pomeriggio My Brodemo Se la masturbazione serve Non penso che vada Lo sfiderei a cantare mentre lo fa Quindi Beh c'è chi potrebbe esserne in grado Credo Faccio l'organizzatore Scusate mi faccio il magazziniere Dove l'ho letto l'organizzatore non lo so E preparo gli ordini a mano È valido? Beh insomma io l'ho fatto il magazziniere Per un paio di estati E devo dire che Sforzo fisico Delle volte lo fa E poi dipende in che magazzini lavori Però c'è anche una componente fisica In quel lavoro Credo Vediamo se arrivano altri commenti Manco se cammino riesco a cantare Molto bene Susi Camminare mai Troppo pigro Giustamente con ironia Gioco a basket 45 minuti al giorno Ergo non riesco né a cantare né a parlare E beh ci sta Ci sta Fede Beh cazzo Oltre a parlare di basket Quindi era un NBA Un giocatore Beh mi sembra anche giusto Chi sa fare sa capire Diceva Oscar Wilde O forse era Aldo Giovanni e Giacomo Uno dei due Io tendenzialmente Dice Zanone Mi alleno Tre volte a settimana Con durata ed intensità variabile Faccio esclusivamente Attività aerobica Il ginocchio non mi aiuta Dice il nostro Picozzi Così solo camminata giornaliera Circa 10.000 passi Cerco di andare sul Tappi Rulandici Ancora Fra 45 minuti al giorno Vabbè cantare no Attività fisica intensa Come allenamento Tre volte a settimana Bene bene insomma Sono arrivati un po' di Un po' di pareri Come tu hai richiesto Caro Ivan Esatto Non ho letto quello di Mivens Scusami Faccio Mille 10.000 10.000 passi 10.000 passi Li faccio tutti i giorni Ma non lo ritengo In qualsiasi caso Un allenamento Ora ci dirà Ivan Quali dei vostri sono O comunque non so Prego Allora Se riavvolgiamo il nastro Ci ricordiamo anche che Abbiamo visto come Il contesto L'ambiente nel quale ci troviamo Può favorire anche La nostra voglia Il nostro desiderio Di fare dell'attività fisica Un certo ambiente Che ci stimola Ad avere uno stile Di vita sedentario Abbiamo visto che favorisce Anche l'obesità Con tutti i problemi annessi E allora riflettiamo Adesso invece Sul nostro tempo libero Vi chiedo di riflettere Su quello che fate Nel tempo libero che avete Come lo trascorrete Perché dalle ricerche Che sono state realizzate Già da diverso tempo E sempre di più Vengono confermate Noi sappiamo Che la maggior parte Del nostro tempo libero Lo trascorriamo Davanti agli schermi Cioè i mezzi di comunicazione Intendendo gli strumenti digitali Ma non solo Il vero problema È costituito dai bambini In particolare dagli adolescenti Perché loro Si è calcolato Che trascorrono Circa otto ore al giorno Davanti a questi schermi O meglio Otto ore Senza contare Quelle della scuola Cioè otto ore Di tempo libero Rifletteteci Se noi sommiamo Le ore che si trascorrono A scuola Con quelle Che bisogna dedicare Allo studio Allora alla fine Vuol dire che I nostri ragazzi Intero tempo libero Lo trascorrono Davanti a questi schermi Poi ci aggiungiamo Le altre otto ore Per dormire E allora siamo arrivati Al conteggio finale Delle 24 È un qualcosa di molto grave Per un altro motivo anche Perché è stata misurata Una relazione Una correlazione Diretta e positiva Tra le ore Che si trascorrono Davanti a questi schermi Da un lato E dall'altro lato La percentuale Di sovrappeso Cioè i chili in più Che si hanno E che non si dovrebbero avere Per mantenere Il proprio peso forma Tu Luca Se hai qualcosa da leggere D'importante Mi raccomando Interrompi Guarda Visto che me lo chiedi Ti interrompo brevemente Solo per salutare Giorgia Pins Ciao amore mio Good pomeriggio Signori seguite la Giorgia Pins Tra l'altro lei A proposito di un'attività fisica La fa Lo so perché appunto La seguo anche sui social Lei pensa Ivan Svolge un'attività fisica Particolare Diciamo Chiaramente non è l'unica In Italia Ci sono amiche Che conosce Anche qui di Monza Lei Tra l'altro Giorgia Se vuoi scrivere Esattamente la disciplina Che pratichi Perché sbaglierei Sostanzialmente È un'attività Aerobica Con Col cerchio Insomma Non so Danza Aerea Ah mio ecco Esatto amore Grazie Meno male Velocissima Scrivere Danza è una roba Molto figa Anche scenografica Come roba E tanta roba Tanta roba Credo che ci voglia anche Una bella prestanza Per fare determinati Esercizi Se mi sono dimenticato Di salutare qualcuno di voi Insultatemi pure Lo sapete che qui siamo Per l'insulto Prego Ivan Forse guarda Leggo il commento di Chiara Che fa tre lavori Più il coordinamento Familiare Che non è poco Arrivo a sera Morta Non riesco ad Inserire un tempo Per l'attività fisica Finché non ho tempo Libero Dice Chiara Che penso Racconti quella Che è una realtà Comuna a tante persone Insomma Esatto E' proprio così Luca Guarda Vorrei che ci concentrassimo Un attimo Proprio sul problema Principale Della nostra società Che è quello Che vi ho appena detto Quello dei bambini E dei ragazzi Una mole Immensa Di letteratura In particolare Sociologica Nel corso Degli ultimi decenni Si è interrogata Su questo fatto Perché questi schermi All'epoca si parlava Ancora della televisione E basta Sono in grado Di catturare Così tanto L'attenzione Di questi ragazzi Anche perché La visione Di programmi televisivi In realtà A differenza Di quello Che si potrebbe pensare E' aumentata Nel corso Degli ultimi anni Semplicemente Che non li si guarda Molto spesso Più in televisione Ma più che altro Li si guarda poi In differita Su altri dispositivi Bene Qual è la risposta A questa domanda E che Gli stessi ragazzi Hanno risposto In diversi sondaggi Vengono catturati Perché le immagini Li affascinano Li distaccano Dalla realtà Non devono più pensare Ai compiti Ai problemi Con gli amichetti Con la ragazza Eccetera E vengono Completamente Immersi In questo mondo Altro Un mondo diverso Rispetto a quello Reale Questo distaccamento Dalla realtà Ha anche Un Riflesso Diretto Nei confronti Della gestione Del cibo Di questi ragazzi Ma di conseguenza Anche la nostra Perché Loro Ok Ottore Ma chissà Noi Quante ne Trascorriamo Noi che siamo Invece Cresciuti Un po' Di più Perché gestione Del cibo Perché Perché se io mi distacco Dalla realtà Perdo La cognizione Di me stesso La consapevolezza Del mio corpo Vi ricordate Negli scorsi episodi Quando abbiamo parlato Di quegli stimoli Quei messaggi Che ci arrivano Al nostro Dal nostro cervello E che ci dicono Se dobbiamo mangiare Se non dobbiamo farlo Se siamo sazi Eccetera Quando ci manca La consapevolezza La cognizione Di noi stessi Questi messaggi Non arrivano Fanno fatica A raggiungere Il destinatario E quindi Non riusciamo appunto A gestirci In maniera corretta Tra l'altro In tv Non si fa altro Che attraverso La pubblicità Ma anche attraverso Altri sistemi Di generare O perlomeno Cercare di generare Dei nuovi bisogni Alle persone Perché naturalmente Serve Ti creo Il nuovo bisogno Del quale In realtà Tu non avresti La necessità E poi subito Ti fornisco anche La risposta pronta A quel nuovo bisogno E se mi manca La consapevolezza Non sono in grado Di riscernere Quali sono I bisogni reali Che devo soddisfare E quelli invece Che mi vengono Creati appositamente Per comprare qualcosa Eccetera Che cosa succede Quindi subito dopo Succede che Di fronte Ad un problema Di salute Perché prima o poi Si rischia che arrivino Questi problemi Di salute Ho perso La capacità Di capire Che ho una responsabilità Personale Nei confronti Di quel problema Poniamo questo esempio Ho trascorso Così tante ore Davanti a questi schermi Niente attività fisica Eccetera Eccetera E allora Qualche chilo in più Lo metto E mi trovo In una situazione Di sovrappeso Che cosa succede Quindi quando mi trovo In questa situazione Non ho quella consapevolezza Che abbiamo detto prima Quindi non riesco A rendermi conto Che dovrei Cambiare qualcosina Nel mio stile di vita E quando invece Me ne rendo conto Allora succede Che non ho Le conoscenze necessarie Per poter cambiare Veramente le cose E allora Immagino semplicemente Che serva un po' Di buona volontà Un po' Di impegno Ridurre alcune quantità Eccetera Per togliere Quei chili Abbiamo visto Che non è assolutamente Sempre così Dipende da caso a caso Poi entro In un circolo vizioso E cioè Voglio Vorrei Non mangiare quella cosa Poi però Cado nella trappola E me la mangio E allora Che cosa subentro Subito dopo Il senso di colpa Cioè sono Oscillo Tra il fare E il non fare Un po' Come se fosse un bambino Non la voglio fare Quella cosa Ma la faccio Non la faccio Non lo so bene Poi alla fine la faccio E mi sento in colpa E allora La prossima volta Non devo cadere Nel tranello Eccetera Eccetera Insomma Veramente come i bambini E qual è la risposta Allora Alla quale subito Si pensa Si entra In una sorta Di dipendenza Dalle diete Ecco mi devo mettere A dieta Quindi contatto Quel Quel nutrizionista Oppure quell'altro Eccetera Ma se queste persone Si spera esperte Che io contatto Tu posso Proseguendo come una catena Seguendo come una catena Infatti alla fine Se arriviamo proprio A quel punto Ok Entriamo in questa sorta Di dipendenza Ok Devo contattare quello Devo contattare Quell'altro Poi con quel dietologo Non mi trovo bene Allora lo cambio Eccetera Eccetera Ma se queste persone Poi Non mi fanno Cambiare la prospettiva Cioè non mi fanno Crescere Nella consapevolezza Del mio corpo Cioè non mi forniscono Quello know how Per capire da solo Come posso fare Anche in futuro Allora quella dieta Non serve a niente Anzi può addirittura Essere dannosa E tra un po' Vi dico anche Perché può essere dannosa È stata chiamata L'industria delle diete Ecco che ci stiamo arrivando Luca Cioè Siccome c'è questo bisogno Da un lato È un bisogno Che sempre più persone Condividono purtroppo E siccome dall'altro lato Queste persone Ne mancano appunto Di la consapevolezza Perché distratte Eccetera eccetera Allora ecco Che la risposta Arriva proprio dall'industria Vengono fuori Nuovi prodotti Nuove pillole Yogurt magici Programmi Corsi da seguire Eccetera eccetera Perché le persone Poi Avendo questo bisogno È chiaro Che rispondono In maniera positiva A tutto questo E non fanno altro Quindi che Foraggiare Sempre maggiormente Una vera e propria Industria Quando si parla Di industria Naturalmente Ci si allontana Un po' Rispetto al mero Aspetto scientifico E all'aspetto medico Bene Si è visto Se funzionano Meno queste diete Cioè Ristrettezza calorica Per un certo periodo Per poi vedere Quanto dura Appunto La perdita di peso Che magari ho anche avuto Addirittura Potrei aver avuto In un tempo record E che cosa si è visto Che La maggior parte Seguite bene Queste parole La maggior parte Delle persone Che iniziano Un trattamento Parliamo naturalmente Di persone Obese Che cosa fa Non arriva al termine Di quel trattamento La maggior parte Bene Però c'è una piccola percentuale Che prosegue Con il trattamento Ok La maggior parte Delle persone Che proseguono In questo trattamento Non perde peso La maggior parte Ok Ne è rimasta Una piccola percentuale Che invece Lo perde Il peso E vediamo Che cosa succede Adesso La maggior parte Delle persone Che perde peso Durante il trattamento Lo recupera Subito dopo Quando Addirittura Non Ne recupera Di più Perché ogni volta Che noi Facciamo questi giochi Dimagrire Ingrassare Eccetera Poi il corpo Ci presenta il conto E molto spesso È la norma Purtroppo Noi recuperiamo Più chili Rispetto a quelli Che abbiamo perso E che avevamo Prima di cominciare Quel trattamento E qua Dico L'ultima cosa Che voglio condividere Vai Luca Così poi Dico Proprio l'ultimissima cosa Ti interrompo Perché sorgono Delle domande Ovviamente Mentre parli Poi recupero Anche la chat Intanto saluto Anche Dark Grande Dark Buon pomeriggio Tutto bene Tutto bene Dark Cioè per quanto Si possa andare bene Di questi tempi Siamo con Ivan Podcastfiore Se non lo conosci Dark Te lo consiglio Davvero Ivan Fiorillo Persona Davvero preparata E anche un Gran bravo Divulgatore sul web A mio modo di vedere E No La domanda è Ma la soluzione Se allora poi Queste diete Spesso e volentieri Si rivelano inefficaci Vuoi perché le persone Non riescono a portarla a termine Vuoi per altri motivi Perché non sono poi così Utili Come invece alcuni dicono Insomma Qual è la soluzione Se non seguire Seguire gli esperti Buon pomeriggio Grande grande Alle paglia Che saluta giustamente Ivan Ma non me Scherzo Potrei dirvi di seguire Anche alle paglia Prima o poi tornerà a streamare Mi raccomando Qual è la soluzione Allora Con dei semplici corsi Che fanno Poi si aprono lo studio Insomma Sappiamo come va Quindi Assolutamente Soltanto Farsi seguire Da esperti Esperti comprovati Eccetera Ma bisogna Assicurarsi Che queste persone Questi professionisti Ci diano la consapevolezza Di come si mangia E di come si riesca A gestire in maniera corretta La nostra salute Perché se ci danno Semplicemente il piano Di quello che dobbiamo mangiare Di quello che non dobbiamo mangiare Per un tot di settimane Alla fine Non lo stanno facendo bene Il loro lavoro Perché rientriamo poi In quella casistica Che vi ho detto Non funziona assolutamente È un percorso lungo Naturalmente È un percorso Che può essere anche complesso Ma alla fine del percorso Come dovremmo essere Idealmente Dovremmo capire bene Quali sono le relazioni Tra i diversi cibi Che mangiamo Non tra i diversi nutrienti Questo è importante Cibo vuol dire Che c'è il nutriente Che è in relazione Con tutti gli altri E c'è una matrice All'interno della quale Si trova quel nutriente Cioè In quell'industria della dieta Rientrano anche gli integratori Ok Quante volte Si è confermato Che se io assumo Un semplice integratore Poi in realtà Quel nutriente Che introduco nel mio corpo Non diventa biodisponibile Cioè non diventa disponibile Realmente al nostro organismo E quindi è come se non ci fosse passato nulla Anzi può avere anche degli effetti collaterali Perché non si trova Nella matrice completa del cibo Quindi se io conosco Le diverse relazioni Tra i cibi E quando mangiarli E come gestirmi Da un punto di vista del movimento Eccetera Quindi se mi forniscono Questi strumenti Queste competenze Che alla fine Non sono così tante Per gestire poi da solo Il cibo La mia vita Allora avrò fatto centro Se invece Mi arriva la dieta miracolosa Che in poche settimane Perdo un sacco di chili Eccetera Allora lì assolutamente Bisogna Bisogna allontanarsi Però Che il problema È molto difficile Te lo conferma Anche l'ultima cosa Che ti voglio dire adesso Luca Sì E questa Questa frase Questo concetto Risale addirittura A una pubblicazione Degli anni 80 1982 Ma sempre di più È urgente Ed è reale Si è visto che Se noi intendiamo Come guarire dall'obesità Il fatto di ritornare Al nostro peso forma Un peso normale Nella norma E a mantenere Quel peso Normale Per almeno I successivi cinque anni Dalla fine del trattamento Allora E questa è una cosa forte Purtroppo È più probabile Che si riesca a guarire Da un tumore maligno Che non dall'obesità Sembra veramente Un qualcosa di Incredibile Di grandissimo Però purtroppo I dati che ci sono Attualmente sono così Quindi se non riusciamo A recuperare la consapevolezza Del cibo Del vivere in maniera Corretta Serena Eccetera Allora alla fine Purtroppo Non riusciamo Ad ottenere Questi grandi risultati Allora Recupero qualche commento In chat Perché è noto Con piacere Che Sia Lui è il vero Motivatore Non quando Vedete me Nei panni del motivatore Però Arro ti dice Che lo hai fatto Alzare dalla sedia Per fare 3x10 Piegamenti 3x20 3 serie da 10 3 serie da 10 Alepaglia ci dice Per me è un casino Tutte queste diete fake Su internet Che girano Abbassano la fiducia Della gente Nelle diete Che sono invece Sane e salutari Che funzionano Ed è corretto Quello che un po' Ci dici tu Da qualche settimana Rispetto a questi temi Legati alla salute E all'alimentazione Purtroppo appunto Sul web Si trova di tutto Si trovano pessime persone Tra cui ovviamente Mi vanto Di figurare anch'io E si trovano Ma tra l'altro Luca Permettimi di dire anche questa cosa Perché me l'ha fatta Minire in mente Proprio Ale Circa Se non sbaglio Una settimana fa O due settimane fa Mentre Mentre preparavo delle cose Per delle persone Che mi seguono Nel progetto E in pratica Ho visto Che era uscita Una notizia Di che cosa Di uno studio Mi sembra cinese Che parlava Di che cosa parlava Parlava in pratica Dell'impatto Che ha Che hanno gli orari Dei pasti Sul dimagrimento Quindi sul perdere Proprio dei chili Solamente che Le notizie scientifiche Che circolavano in Italia Notizie non scientifiche In realtà Cioè I classici giornali Non avevano capito Assolutamente Quello che era scritto In quella ricerca cinese Alla persona Per ripita In quale contesto Eccetera E quindi alla fine È passato il messaggio Che l'importante È restringere le calorie Puoi mangiare Quando vuoi Allora che ti pare E poi alla fine Ottieni gli stessi risultati Ma invece Non è questo La cosa che ha detto La ricerca scientifica Quindi Anche quando leggiamo Queste notizie Massima attenzione A quello che ci dicono Ho fatto bene Ho fatto bene a sottolinearlo Allora recupero la domanda Di calciatore Che l'aveva già fatta E ti chiedo scudo Forse ne hai fatte due diverse O è sempre la stessa Spero Qual è secondo te La motivazione principale Che induce Una parte delle persone A fallire nella dieta Cioè cosa Più che Vabbè Il senso diciamo Si è capito Cioè cosa Porta le persone A non riuscire A proseguire In questo percorso di dieta Secondo te È una tua opinione Ovviamente La mia opinione È proprio La forza di volontà Cioè se non vedi Quello che ci sarà Poi al termine Del trattamento Alla fine Non ti senti Così portato A dover Come dire Fare delle sorte Di rinunce Durante la tua vita Perché secondo me Deve essere Bravo il professionista A farti capire Che quello che stai facendo È una cosa bella È una cosa positiva Che ti serve Per il futuro Non puoi non farla Se invece vedo Semplicemente Come una restrizione Ah non devo mangiare Questo se non in grasso Eccetera Alla fine Che cosa si fa Poi tra l'altro Si classifica In cibi buoni E in cibi non buoni Quando invece Una dieta Come Dio comanda Non vieta assolutamente Nessun cibo Anzi poi Quando te lo puoi concedere Quel cibo Che ti piace tanto È una festa E tu quindi aspetti Anche il momento Della festa Ma deve arrivare pronto Preparata A quella festa E purtroppo È sempre lì Il concetto Della consapevolezza È tutto nel nostro cervello C'è anche una predisposizione Genetica Che però Non è conosciuta A fondo E a maggior ragione Quella predisposizione Deve essere gestita Al meglio Attraverso tutte Queste indicazioni È stato Tutto nel nostro cervello Purtroppo E le persone Che non lo sanno E che non vengono Guidate adeguatamente E purtroppo Poi non riescono A risolvere Questo problema Sì è facile È facile probabilmente Perdersi nella costanza Soprattutto rispetto A questa cosa Che è legata A delle abitudini In questo caso alimentari Che però sono Parte integrante Della nostra vita Fondamentale anche Per cui è difficile Stravolgere i propri piani Da questo punto di vista Recupero qualche Considerazione Passata Poi se devi Scappare Ovviamente Dimmelo Ivan Allora John Genets Che spero sia ancora Con noi Ci dice Giustamente Ci ricorda Sostanzialmente Che laurea Non sempre È sinonimo Di competenza E lui dice Bisogna stare A volte attenti Anche alle persone Che hanno una laurea Non tutte le lauree Che luccicano Sono lauree d'oro Ed è assolutamente Condivisibile Penso da tutti Questa sua visione Della cosa Secondo me Alcuni nutrizionisti Non fanno diete idone Di cefra Forza di volontà Ricorda il calciatore Appunto Spesso ti dicono I nutrizionisti Di cefra Non mangiare pasta Non fare colazione Poi ti dicono Di Di Consumare Un sacco di integratori Che danneggiano i reni Good good pomeriggio Martone Grande Marto Applausi Segui risseguite anche Marto Stiamo parlando di alimentazione Abitudini alimentari Percorsi di dieta Con ovviamente Il nostro amico Ivan Di Podcast Fiore Allora Il mio medico Di base Ha la specialistica In dietologia Passerò E peserò 130 kg Tra l'altro Già ho visto Che tu a 30 anni 33 anni Insomma hai scoperto Comunque Che è stato diagnosticato Il diabete Di tipo 1 Io poi me ne intendo Davvero poco Di queste questioni Però ovviamente Bella sfiga Adesso poi C'è di peggio Ma c'è anche Di meglio In questo caso Allora Peserà Ah peserà Lui Il tuo medico È un dietologo Peserà 130 kg Bene Cosa riva Che roba No va bene Non è che riva Scusate Cosa devo fare Ivan C'è un dietologo In effetti Pochino stona Però Va bene Sono Sono fatti C'è anche di me Lo so John Lo so Good good pomeriggio Insert coin Non so se vuoi rispondere Qualcosa Rispetto Rispetto a questo Queste considerazioni Un consiglio Che certamente funziona È questo Perché noi alla fine Siamo vittima anche Delle nostre emozioni E del ricordo Di emozioni passate Bene Se noi riusciamo Ad associare Un'emozione Positiva No perché non esistono Le emozioni positive Ma un'emozione Che ci ricorda Un vissuto positivo Che ci fa bene Con Una cosa che dobbiamo fare Grazie cacciatore Per quei 100 bit Scusami Ivan Vai 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 Grazie mille fratello Guarda il tipografo Mette proprio il dito Nella piaga Ma quanto è alto Se pesa 130 kg Vabbè È una considerazione Che ci sta Vabbè Anche Shaq Pesava 130 kg Vabbè Shaq Non so Non vorrei offendere nessuno Perché c'era anche A Ronde NBA Altri gestisti Io non so se Shaq si può definire Sovrappeso Non penso Perché erano forse Muscoli quei chili Probabilmente Sì Però l'alimentazione Di Shaq il O'Neal Penso che farebbe Insomma Non so In quanti di noi Ci starebbero dietro 30 kg di me Vabbè C'era anche quel peso In effetti Arro Perdonami Ivan Ti ho interrotto ancora No diciamo Una cosa Molto semplice Che se noi Associamo Un'emozione Che ci ricorda Un qualcosa di positivo Con un momento Di restrizione Quindi magari Quel cibo Che non ci piace Che però È importante Quindi lo dobbiamo mangiare Poi La cosa cambia Varia da persona a persona Magari dopo una settimana Due tre Eccetera Alla fine il nostro cervello Accetterà quella cosa E quindi non ci sembrerà più Così tanto negativa Anzi saremo contenti Di portarla avanti E se dall'altro lato Abbiamo invece Dei cibi Che ci ricordano Delle cose negative Del passato Dobbiamo cambiare Quello ricordo E quindi ci associamo Una nuova cosa positiva E questo ci varrà Anche per il futuro No è molto interessante Tutto l'aspetto Che chiaramente Non possiamo indagare Diciamo in maniera Esaustiva In questi minuti Però è molto interessante L'aspetto psicologico Che si lega A quello fisico In un argomento Come quello Di cui stiamo parlando Di cui parliamo Ogni settimana Con te Allora io ti faccio Le ultime due domande Che non riguardano In realtà Tanto questo Di cui abbiamo discusso Se poi vuoi aggiungere Qualcosa tu fai pure Una Vabbè Puramente Diciamo In qualche modo Promozionale Di cosa Ti occuperai Nelle live Di questa settimana Se vuoi Ricordarlo E E questo E poi la seconda Te la faccio In secondo piano Ok Vi rispondo In maniera Molto veloce Sì Vedremo Le ultime novità Che il leader Internazionale A livello proprio mondiale Dei dispositivi Digitali Che vengono utilizzati Nei luoghi della cultura Ha inaugurato Proprio negli ultimi mesi Quindi parleremo Della regia di Versailles La La fortezza militare Più grande d'Europa Eccetera eccetera Vediamo quindi come Stanno migliorando Questi luoghi Raccontando la storia Però attraverso Le storie Vai Luca Molto bello Molto bello Io vi consiglio di seguirlo Eh Mi raccomando Seguite mio fratello Ivan Podcastfiore Ultimamente Io sto facendo Una brutta fatica Infatti mi sento Un po' in colpa Però Restiamo Restiamo legati Comunque E tra l'altro Poi ci sentiremo Che quest'estate Ho un debito con te Un debito che Non vedo l'ora Se ci vedremo Io non vedo l'ora Di poterlo ripagare Insomma Comunque Un'ultima considerazione Che è la cosa Di cui tra le altre Parleremo Ora vedremo In realtà Se creerà Del dibattito O meno Dipende da voi Quindi dipende Da quelli della chat Ti chiedo Visto che ormai Possiamo parlare Di due anni Di pandemia Quello che abbiamo vissuto Come li abbiamo vissuti Cioè secondo te Che periodo è stato Proprio molto generale Come considerazione Eh Cioè non Ripeto Ovviamente Cioè la libertà massima Di dire quello che volete Nel senso nel rispetto Di quelle che sono Le regole di Twitch Più che altro Vabbè a Ivan non lo dico Ma lo dico agli altri Che poi potranno entrare Nella chat vocale Tu come li hai vissuti Questi due anni Quali ripercussioni Oggi Ci tocca da vivere Insomma Quali ripercussioni Continuano Ad esserci Tutto oggi Ti chiedo insomma La tua visione Del Di questi due anni Allora Io li ho vissuti Estremamente bene Da un punto di vista Personale Ma siccome prima Abbiamo parlato Dei bambini Dei ragazzi Degli adolescenti Allora vi riporto Come loro hanno vissuto Tutto questo Perché io sono L'educatore Formato Ho contatti Con tanti altri Educatori In tutta Italia Con tanti ragazzi In tutta Italia E molti di questi contatti Poi ultimamente Mi sono arrivati Anche grazie alla trasmissione E vi dico Che non è stato Assolutamente positivo Anzi Nel corso Dei prossimi anni Certamente Avremo Una Una catastrofe Da un punto di vista Psicologico Da un punto di vista Anche fisico Perché tante cose Sono state lasciate Un po' a perdere Pensiamo allo sport Eccetera E quindi Secondo me Nel breve Medio periodo Non ci aspetta Un'età felice Probabilmente Nel lungo invece Sì Ma da qui A qualche anno Non la vedo Assolutamente erosia Purtroppo Se poi quindi Questa situazione Negativa La vivono i nostri bambini Allora è chiaro Che subito dopo Dovremmo recuperare Perché saranno Gli adolescenti E i giovani Del futuro Quindi ci sarà Da rimboccarsi Molto molto Le mani E ti dico Anche un'altra cosa Che ci sono state Associazioni Tu lo sai Che io sono Un capo scout Sì Un capo scout Che però A un certo punto Se n'è andato Perché non ha più Assolutamente accettato Diciamo che Tutti i problemi Che c'erano Fino al 2019 Che venivano messi Sotto al tappeto Poi a un certo punto È chiaro che sono Esplosi con il covid E sono diventati Assolutamente inaccettabili Per quanto riguarda La formazione dei capi Eccetera eccetera Dal 2020 in poi Infatti Ho ritenuto Opportuno Da parte mia Andare via E infatti Negli ultimi due anni 2020-2021 Le iscrizioni Di tutte Le associazioni scout Sono crollate Una in particolare In maniera vertiginosa Quella della Associazione più grande E più importante D'Italia Mentre invece Dall'altro lato Altre associazioni Culturali Hanno visto addirittura Crescere il numero Delle proprie iscrizioni Nonostante ci fosse in corso Il momento del covid E quindi diciamo Che molti genitori Certamente Si sono resi conto Che anche quelle istituzioni Che dovrebbero Fornire Un ambiente diverso Ai nostri bambini Ai nostri ragazzi Un'educazione di qualità Non lo stanno più Ai metagendo Guarda è molto interessante Perché tu Lo hai evidenziato Insomma Hai a che fare Con ragazzi molto giovani Con bambini Cosa che io Ad esempio Non posso dire La stessa cosa Io posso parlare Più che altro Dei miei coetanei O di persone più grandi Insomma Che conosco Che frequento Ecco Però chiaramente Come tra l'altro Abbiamo sottolineato Diverse volte Nel corso di questo tempo Che non sono due anni Perché io Su Twitch Sono qui da un anno Appunto come te Ivan Però abbiamo fatto Diverse live A cui avete partecipato Anche in tanti di voi Tra l'altro Parlando anche Con dei professori Con dei giornalisti Che si sono occupati Del tema Parlando con psicologi Psichiatri E varie figure Che si occupano Di psicologia infantile Quindi il tema Dei disagi Provati Dai ragazzi Molto giovani Dai giovani Dai giovanissimi Lo abbiamo affrontato Ed è un tema evidente E sotto gli occhi di tutti Un tema Di cui comunque Dovremmo continuare a parlare Perché come tu Hai giustamente Sottolineato Gli strascichi Probabilmente Li noteremo ancora Col tempo Ed è presto Per almeno Alcune situazioni Poter dare dei giudizi Definitivi Però sicuramente Loro sono Tra quelli che hanno pagato Lo scotto più alto Dall'inizio di questo periodo Ovviamente triste Per tutti noi Alla fine Ivan io ti ringrazio Come al solito Sei stato gentilissimo Oggi ti ho rubato Ancora un po' di più Del tempo del solito Però ho visto anche La chat particolarmente Interessata L'ultima domanda L'ultima domanda Te la fammi Invenso Non so se si può dire O se si va Contro qualche regolamento Si può dire assolutamente Il tuo nome da scout Attenzione Rullo di tamburi Marmotta Perché lavoro dietro le quinte Silenziosa Parlo solo quando Lo ritengo Marmotta silenziosa Ragazzi Incredibile È interessante Dice tanto Anche di te Questo nome da scout Sapete che gli scout Hanno come dire Dei nomi Che si scelgono Spesso legati Credo agli animali O sbaglio Sì Non sempre Della natura Anche piante Dipende Anche piante Ecco esatto Io la mia Non devo sottolineare Che pianta sarebbe Ma si scherza Va bene Ivan Dopo questa battuta finale Che potevo risparmiarmi Ti ringrazio Come al solito Per la tua disponibilità E ci vediamo presto Se ci sarai ancora Settimana prossima E mi raccomando Seguite Ivan Di Podcast Fiore Grazie Ivan Un abbraccissimo Assoluta Mettiamoci al lavoro Grazie Grazie Ivan Allora ragazzi Che dolce Che brava persona Più che altro Ogni tanto vi porto Anche delle brave persone Sul canale Sembra strano Ma è così